Ciao a tutti, come praticare mindfulness? In questo video voglio spiegarti come praticare il mindfulness. Il mindfulness è una tecnica molto antica di respirazione, è la versione moderna, diciamo, di una tecnica molto antica di respirazione. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise e definitive. Ma veniamo adesso alla tecnica del mindfulness. Allora, come si pratica il mindfulness? Che cos'è il mindfulness? Allora, il mindfulness è una tecnica di meditazione che deriva dalla meditazione buddista ed è la versione moderna, diciamo, di questa meditazione e porta praticamente l'obiettivo e quella di far sì che la persona possa essere concentrata nel tempo presente, possa acquisire la consapevolezza. La consapevolezza di se stesso e la consapevolezza di quello che accade. La consapevolezza è uno dei modi migliori, diciamo, per diventare emotivamente consci, emotivamente consapevoli. In effetti puoi diventare attraverso la consapevolezza non solo consapevole, non solo emotivamente, ma proprio anche fisicamente, anche attraverso la tua parte cognitiva. Il mindfulness utilizza la respirazione. La respirazione è, se ci pensiamo bene, quel lato volontario, per certi versi, perché noi attraverso la nostra volontà possiamo modificare la respirazione, ma anche decisamente volontario, perché, come dire, non ci si può, tra virgolette, dimenticare di respirare. Respiriamo durante la notte. Però, a differenza di altre funzioni, diciamo, fisiologiche, come ad esempio il battito cardiaco o il fatto che il sangue scorre o il fatto che le cellule crescono o il fatto che, che ne so, che i processi si trasformano, questo meccanismo del mindfulness è un meccanismo, cioè questo meccanismo della respirazione è anche facilmente controllabile dalla coscienza. Quindi è un po' l'anello di congiunzione tra ciò che è conscio e tra ciò che è inconscio. Quindi la consapevolezza, il respiro, è proprio quella modalità che ci fa rendere consapevoli di fatto di esistere, di esistere veramente, perché spesso viviamo senza renderci conto di esistere. Non è necessario per praticare il mindfulness un abbigliamento particolare, non è necessario nulla di che. Serve uno spazio dove ci possiamo mettere. Ovviamente la mente vagherà all'inizio e quindi cercherà di sfuggire alla consapevolezza. Però è importante, diciamo, rendersi conto di quando la mente prende a divagare nei suoi pensieri e nel riportarla, tra virgolette, sulla retta via. La capacità di concentrazione, anche nel buddismo tibetano, è una delle capacità che viene più presa in considerazione. Quindi è importante non avere giudizi, prendere e quindi se il giudizio, se iniziamo a diventare giudicanti, prendere il sopravvento, cerchiamo di lasciarlo andare e lasciare che passi quel momento. E' importante imparare a riconoscere i nostri sensi e riportare l'attenzione sul singolo momento. Come si pratica il mindfulness? Allora, beh, bisogna trovare un posto tranquillo e silenzioso, ovviamente. Serve poco tempo. Inizialmente bastano anche 5-10 minuti. Volendo si può impostare un timer per far passare 5 minuti. Poi dopo si può anche ovviamente fare senza timer e lasciare che il tempo passi se si possono fermare anche più di 5 minuti. I monaci tibetani, ma non soltanto quelli che stanno in Tibet, ma i praticanti anche possono anche passare ore. Anzi, si dice che come dire, una buona concentrazione deve essere almeno di un paio d'ore. Lo utilizzano non soltanto la respirazione, ma utilizzano anche delle figure, dei mandala sulla quale concentrarsi. Comunque, una volta che ci siamo posizionati in una posizione comoda, meglio con la schiena retta, ma non tesa, questo per allineare i chakra, le spalle rilassate, le braccia rilassate, dobbiamo iniziare a portare attenzione sul nostro corpo e metterci in una posizione che ci fa sentire veramente a nostro agio, quindi come se il nostro corpo potesse tranquillamente rilassarsi e potesse tranquillamente essere completamente rilassato. poi ci possiamo concentrare sulla respirazione e portare l'attenzione al respiro, quindi seguire la sensazione del respiro mentre si inspira ed espira e portare semplicemente l'attenzione sul respiro. Quindi dobbiamo diventare consapevoli di questo atto che stiamo facendo in questo preciso momento e possiamo notare che magari la nostra mente inizierà a vagare e ti puoi prendere e lasciare che la mente vaghi senza forzature e puoi riportarla tranquillamente nuovamente sul respiro. Non è necessario il mindfulness è dolce, non è necessario avere atteggiamenti critici verso la nostra mente quando vaga. semplicemente non dobbiamo alimentare e riprendere la mente e riportarla semplicemente sul respiro e prendere consapevolezza diciamo di se stessi di quello che stiamo facendo e questo possiamo farlo anche non soltanto durante la meditazione ma mentre mangiamo mentre facciamo altre cose. Una frase che una volta che venne chiesta a Gurdjieff che cosa distingue diciamo lui che è un maestro insomma da un'altra persona lui ha detto il fatto che io quando mangio mangio quando dormo dormo eccetera cioè faccio le cose in modo consapevole noi invece spesso mangiamo e pensiamo ah domani c'ho le bollette da pagare oppure c'ho questo c'ho quello e diventa un atto involontario poi facciamo un'altra cosa e ne pensiamo un'altra quindi la nostra mente prende completamente il controllo sulla situazione ecco queste piccole pratiche applicate alla vita di tutti i giorni possono dare dei grandi benefici bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonandoti potrai partecipare e farmi delle domande alle quali risponderò in apposite live ciao a tutti